È necessario e urgente promuovere un clima di fiducia tra israeliani e palestinesi e di riavviare i negoziati diretti per raggiungere un accordo rispettoso delle legittime aspirazioni dei due popoli come contributo fondamentale alla pace e alla stabilità della regione. E quanto è stato ribadito oggi durante l'incontro tra Papa Francesco e il Presidente dello Stato di Israele, Riblin, nel corso dell'udienza, riferito alla Sala Stampa Vaticana, è stata poi affrontata la situazione politica e sociale del Medio Oriente, segnata da diversi conflitti con particolare attenzione alla situazione dei cristiani e di altri gruppi minoritari. Affrontate infine alcune questioni riguardanti i rapporti tra lo Stato di Israele e la Santa Sede, tra le autorità statali e le comunità cattoliche locali, auspicando una pronta conclusione dell'accordo bilaterale in corso di elaborazione e una soluzione adeguata di alcune questioni di comune interesse, tra cui quella riguardante la situazione delle scuole cristiane nel Paese.